Nelle mie linee di mandato che invito i cittadini a leggere c'è una città rinnovata che guarda il futuro. Tra i vari passaggi che ci sono c'è anche quello dell'abbattimento del vecchio Palazzo Sirena. Una situazione che questa città si porta avanti da oltre 30 anni, un palazzo chiuso che rappresenta il simbolo del degrado per tutte le nuove generazioni. Noi risolveremo il problema con la riqualificazione ma soprattutto risolveremo il problema facendo partire il nuovo auditorium appena ristrutturato che sarà un centro nevralgico per il futuro della nostra città. Noi più che muro contro muro abbiamo trovato un muro anche abbastanza alto, eretto dalla maggioranza che non ci ha permesso la settimana scorsa di riunirci in commissione di controllo e garanzia per esaminare gli atti e la legittimità di questi atti posti in essere dagli uffici. Insistiremo per verificare la regolarità degli atti, la richiesta dei pareri alla sovrintendenza se sono stati effettuati e soprattutto vogliamo rimarcare un fatto che quel palazzo è una risorsa per la città e che se oggi è chiuso da diversi anni la colpa è soltanto dell'amministrazione Luciani che volutamente l'ha lasciata all'abbandono proprio per poter oggi dire e rivendicare una presunta inutilizzabilità del palazzo che nei fatti non c'è.